Qual è il sentiero più consono per voi? Scesi dal Colle San Carlo arriviamo alla Tuil. La Tuil è uno dei più estesi comuni della Valle d'Aosta, una vallata fatta a stella molto caratteristica, caratterizzata soprattutto da due dore che la attraversano, una che scende dal Ruitor, dal ghiacciaio, e una che scende dal Vernei. Si incrociano alla Tuil e formano la Dora di la Tuil. La Tuil conta quasi 800 residenti, di cui 650 circa abitanti, mentre durante la stagione turistica abbiamo all'incirca un 10-12 mila presenze costanti. I pellegrini che passavano alla Tuil, quando non avevano posto dove riposare, venivano accolti nella casa parrocchiale per poi proseguire verso il piccolo San Bernardo, dove erano poi accolti dall'abbate Shanu all'inizio e poi dagli altri fratti in seguito. Il pellegrino moderno dovrebbe fermarsi appunto per la sua cultura enogastronomica e per le bellezze del paese.